E' un privilegio per noi ospitare questa sera Roberta Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo. Buonasera. Buonasera. Presidente, le guerre hanno unito l'Europa, l'Ucraina prima, ma adesso c'è qualche segnale di scollamento. Siamo in pericolo? Come ha detto, l'Europa è stata più unita che mai. Se guardiamo le ultime cinque anni sulla pandemia, sul piano di recupero, il PNRR, anche sulla guerra dell'Ucraina, siamo ancora uniti, ma dobbiamo essere sicuri che quell'unità si tiene. Quello è cosa voglio fare qua in Italia. Vengo qua da un tour che ho fatto al sud d'Italia per ascoltare e essere sicuri che i nostri cittadini possano contare sulla nostra unità se si sentono ascoltati. Non possiamo prendere per scontato i nostri votanti. E questa è la più grande sfida che avremo. Senta, Salvini, leader d'Italia della Lega e punto di riferimento anche della destra europea, sovranì, l'ha attaccata perché ha paura di un'alleanza, diciamo, dei conservatori, Giorgia Meloni, con i popolari e con i socialisti. Perché? Io questo non l'ho preso come una critica personale, perché io sono venuta in Italia per parlarle con tutti, ho una grande relazione con tutti i deputati che sono stati eletti dai cittadini italiani nel Parlamento europeo e stiamo adesso a parlare di cosa vogliamo dell'Europa nei cinque anni che vengono dopo le elezioni. Io voglio che i cittadini italiani si sentano la possibilità di trovare dei candidati su cui possono fidare perché noi possiamo continuare a costruire questo progetto vulnerabile, fragile, europeo. Io sono convinta che solo il centro proeuropeista può dare delle soluzioni al futuro dell'Europa e nel questo senso che io parlo con tutti, non dipende da quale partito politico che loro vengono, non voglio entrare nei dibattiti nazionali, ma il mio messaggio era molto chiaro, unire gli italiani in una forza proeuropeista che possiamo, nei cinque anni che vengono, continuiamo su questo passo di unità che noi abbiamo trovato nei questi cinque anni. Lei ha un buonissimo rapporto con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni immagino che sia pronta ad allearsi con il Partito Popolare, di cui lei è un esponente. Io non posso parlare nel nome suo, ma il Presidente lo conosco molto, la parlo, è una donna molto forte, quando parla lei si vede che l'Italia conta e lei è una donna proeuropeista forte. È su questo che noi anche contiamo su di lei, io conterò non solamente su sua amicizia, ma il suo leadership con cui lei ha preso l'Italia al centro del dibattito europeo, sia sull'immigrazione, sia sul finanziamento, sia anche sui piani digitali, climatiche, sociali, su cui l'Italia può essere leader. Anche questo anno l'Italia prenderà la presidenza del G7 di turno. Questo sarà un anno molto importante perché potremo vedere anche il Presidente con i suoi ministri nel leadership di questi paesi che ci tengono molto a essere al centro proeuropeista che noi possiamo continuare a costruire. Allora, però se i voti del Partito Popolare e i voti dei conservatori o dei liberali non fossero sufficienti, secondo lei Giorgia Meloni potrebbe spingersi anche ad entrare una maggioranza con i socialisti? Per me le maggioranze sono sui dibattiti, sui soggetti che noi dibattiamo. Adesso avremo dei voti molto importanti sull'immigrazione, sulla clima, sull'aiuto ai nostri imprenditori, inclusi questi italiani. Abbiamo visto molta cooperazione da tutte le forze politiche che vogliono questo proeuropeismo che possa aiutare anche l'Italia. Allora per me, naturalmente decideranno i cittadini italiani e anche i cittadini europei per chi votano, ma per me l'importante è se noi possiamo convincere i nostri votanti, nostri elettori, i nostri giovani, molto importante, di continuare a spingere questo proeuropeismo. Io sono convinta che le maggioranze al centro noi li troviamo. Non ho paura su questo e voglio veramente fare una campagna elettorale a favore di tutti quelli che credono nell'Europa. Grazie Presidente, auguri per le prossime elezioni e chissà per una conferma alla guida del Parlamento europeo. Io proverò a essere candidata a Malta e di rinuovare la fiducia ancora di mio paese. Grazie e a voi buon amadeus. Cinque minuti per noi.